Prima la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma contenuta nel decreto del governo Monti sulla soppressione di alcune province cosiddette minori. Poi a distanza di 48 ore dalla pronuncia della consulta il disegno di legge costituzionale presentato dall'esecutivo Letta e che prevede stavolta l'eliminazione dal quadro istituzionale di tutte le province italiane. Sul futuro degli enti intermedi fra comuni e regioni il dibattito prosegue senza soste, così come gli interventi del legislatore. La Corte Costituzionale ha fatto chiarezza affermando che poiché le province sono proviste nella Carta e delle province si parla in molti articoli della principale legge dello Stato, ogni modifica soppressione compresa deve essere introdotta con legge costituzionale. Il nuovo governo delle larghe intese ha deciso via a tutte le province da nord a sud e senza eccezioni. Il parlamentare del PD Danilo Leva condivide la scelta dell'esecutivo che va, ha detto, nella direzione del riordino istituzionale dei costi dell'apparato. Senza che ciò comporti il venir meno dei servizi per i cittadini. Leva si scaglia contro il presidente della provincia di Sernia, Mazzuto, accusandolo di difendere più le poltrone degli amministratori che i servizi ai cittadini. Puntuale la replica a mezzo di comunicato stampa del vertice di via Berta. È incredibile, ha fatto sapere Luigi Mazzuto, come Leva appena eletto parlamentare si sia dimenticato da dove provenga e non difenda il suo territorio. Le 107 province che si vogliono sopprimere, ha continuato il capo dell'esecutivo Isernino, costano come 13 parlamentari. Ed allora perché non si eliminano 13 persone anziché i servizi degli enti? Insomma, il fuoco della polemica si alimenta ed è destinato a divampare.